Dopo la vittoria di campionato con il Gubbio, il Pescara torna questa sera in campo per la Coppa Italia. All'Adriatico è di scena la Fermana, gara secca per il passaggio al turno successivo. Chi prevarrà nel match dell'impianto di Via Pepe affronterà il Pineto, passato di misura ieri sera al Del Conero di Ancona. Considerando gli impegni ravvicinati, domenica 8 ci sarà la gara di Ferrara e mercoledì 11 il recupero del match proprio con la formazione pinetese. Il tecnico pescarese Zdenek Zeman opterà per un turnover quasi totale. La probabile formazione bianca-azzurra dovrebbe giocare con il 4-3-3 e vedere Ciocci tra i pali, Floriani, Mussolini, Staver, Di Pasquale e Milani in difesa, Dagasso, Manu e Mora a centrocampo e in attacco il tridente formato da Masala, Vergani e Cangiano. Una squadra completamente diversa da quella scesa in campo in campionato nell'ultimo turno e con la testa ovviamente al match che si giocherà domenica in Terra Emiliana. Questa sera sugli spalti dello Stadio Adriatico sono attesi poco meno di 2.000 spettatori. Pescara-Fermana sarà diretta da Claudio Giuseppe Allegretta della sezione di Molfetta.